Il fuori programma di Papa Francesco lascia il segno nel cuore degli ospiti del campo arcobaleno di Ponte Mammolo, non distante dalla parrocchia romana di San Michele Arcangelo, nel quartiere periferico di Pietralata. Prima di effettuare la consueta visita, il pontefice, accompagnato dal parroco Monsignor Aristide Sana, si è intrattenuto con i profughi e rifugiati in maggioranza latino-americani e con loro ha recitato Il Padre Nostro in spagnolo. Un momento di commozione e gioia in una delle tante periferie dimenticate, ma amate da Papa Francesco. Il Padre Nostro in spriuto San Antonio, il cuore dei venti e che permanezca per ieri.